Musica Sua eccellenza Domenico Cuttaia è il perfetto di Venezia, di tutta la provincia. Un bel saluto social in questa bellissima giornata qua proprio a Mestre. Sì, un bel saluto ma soprattutto il desiderio di sottolineare come con questa iniziativa lo Stato, in particolare la Polizia di Stato, le Forze dell'Ordine, evidenziano quella vicinanza ai giovani che deve costituire la base di ogni tipo di rapporto sociale nella sua prospettiva migliore. E siccome il settore della comunicazione via internet attraverso i social costituisce oggi una forma comunicativa fondamentale, è giusto richiamare l'attenzione e soprattutto incidere sulla sensibilità dei giovani con strumenti informali, con modi informali come questo che suscitano curiosità e interesse. Ma al tempo stesso formano anche le coscienze. Perché l'importanza di comunicare bene significa accrescere i sentimenti di appartenenza alla comunità e quindi sviluppare anche sentimenti democratici in modo naturale. E poi soprattutto, direi ancora di più, rispettare la dignità degli altri. Proprio in questi giorni abbiamo letto di notizie tragiche, luttuose, di ragazzi che a seguito anche di commenti, di valutazioni sprezzante, si sono addirittura tolte la vita. Quindi è molto importante incidere sulle coscienze, ma in questo modo non cattedratico o ufficiale, ma proprio facendo appassionare i ragazzi a quelli che poi sono importanti temi sociali. Quindi merito anche alla Polizia di Stato di aver trovato questa modalità avvincente, molto semplice e che vedo che sta riscuotendo anche particolari interessi, non solo tra i giovani, ma tra tutti quanti noi. Eccellenza, è proprio questo il messaggio che la Polizia di Stato vuole dare, cioè scende in campo al passo con i tempi dei social network. Quindi scende nelle piazze il primo progetto che una Polizia di un paese fa in tutta Europa, possiamo dire anche forse in tutto il mondo. Sì, ed è importante questo perché la Polizia è strumento e sostegno anche per la diffusione positiva di queste che sono poi meccanismi anche evolutivi di comunicazione, di informazione e di divulgazione anche scientifica. Quindi la Polizia dà un suo contributo che non è il contributo della vigilanza occhiuta come una volta, negli anni 50 magari si definiva l'attività di Polizia nel suo complesso, ma è soprattutto un'azione di sostegno, una forma di accompagnamento delle persone per individuare quelli che sono poi i temi sociali, i temi della convivenza civile. E' chiaro che poi la Polizia nel momento in cui vengono violate le regole, le leggi, deve intervenire. Ma quello che oggi è importante sottolineare è che attraverso questa attività che svolgono le forze dell'ordine tra la gente, tra le persone, si ha un contributo estremamente positivo alla definizione di comportamenti civili e di comportamenti sociali. Ed anche Sua Eccellenza Domenico Cuttaia, prefetto di Venezia, insieme al signor questore Vincenzo Roca, sempre di Venezia e a tutte le altre forze di Polizia... Una vita da social! Questa volta un applauso ve lo faccio io!